Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti qui Mr. Lob dal Minerva Studio Stasera parliamo di autotune, ti faccio vedere qual è il trucchetto, qual è il segreto di Travis Scott sull'autotune Non solo di Travis ma anche di altri E parleremo di saturazione più autotune, quindi ti farò vedere delle piccole cose Ma ti ricordo che se sei nuovo sul canale ti invito ad iscriverti, azionare la campanellina in maniera tale da restare aggiornato su tutte le nostre novità Escono video ogni settimana, io direi ogni giorno Se invece sei già un navigato del Minerva Studio, sei già un minerviano da vecchia data Sai benissimo che ora c'è la sigla Eccoci qua, allora autotune Andiamo a vedere un po' qual è il trucchetto che potremmo definirlo così Il segreto che utilizzano i più grandi per creare quella pastosità nella voce con l'autotune E il segreto in questione è la saturazione Partiamo da questo concetto che la saturazione ovviamente quando si registra in studi di un certo tipo Con microfono di un certo tipo, con preamplificatori di un certo tipo Di per sé già il colore della voce viene fuori da queste macchine Però se noi siamo in realtà di home studio e che quindi non abbiamo a disposizione queste macchine Possiamo assolutamente ricavare quel tono, ormai si può fare Possiamo ricavare quel tono utilizzando dei plugin che saturano Ok Sostanzialmente ragazzi che cos'è la saturazione detta proprio in parole spicciole Le macchine reali hanno un certo range di lavoro ottimale Ok, voi immaginate che ci sia un range dinamico Attraverso questo range le macchine lavorano in maniera lineare Se il segnale viene spinto oltre questo range c'è una soglia di saturazione appunto Quindi la macchina viene saturata E i componenti stessi della macchina tirano fuori delle armoniche Quindi delle frequenze che in realtà non ci sarebbero Però loro proprio per la loro natura costruttiva Quando il segnale si dice viene distorto Cioè viene fatto lavorare la macchina a livello della sua soglia Tira fuori queste armoniche E quindi si ha l'effetto caldo, calore, di saturazione che non ci piace tanto E devo dire che con i plugin di saturazione che ci sono ultimamente Questo aspetto viene utilizzato non solo più per fini puramente estetici della voce Quindi fini atti a dare quel colore alla voce Ma anche e soprattutto per in maniera creativa viene utilizzato questo suono Per distorcere specialmente le doppie vabbè eccetera eccetera Però stasera ti faccio vedere un po' come finalizzare Ecco la tua voce con l'ado-tune Dopo che tu hai messo l'ado-tune e hai fatto tutte le cose eccetera eccetera Vai a finalizzare la voce dandogli questo calore naturale con l'effetto saturazione Allora il plugin Ti faccio ascoltare la voce Parlano, parlano, vedo sti infami che cantano Li faccio entrare nel baratro Dei miei pensieri che tagliano Ok questa è la voce, to-tune, compressione tutta fatta Bla 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 eccetera Ci sono anche i riverbri che ora togliamo Allora ci sono vari plugin di saturazione Io ultimamente sto utilizzando Il plugin Dell'SPL A me piace tanto il TwinTubes Questo plugin qua Ce ne sono tanti vari altri Ok all'interno del mio processo di mix Io utilizzo vari plugin di saturazione A seconda di quello che mi serve Perché ogni plugin lavora in maniera diversa Però devo dire che Se tu stai cercando una saturazione valvolare Perché poi ci sono vari tipi di saturazione Però questo non è il video per spiegarlo Ok se tu stai cercando una saturazione valvolare Quindi dal carattere delle valvole Questo plugin specialmente sulle voci Funziona in una maniera incredibile Praticamente molto semplice questo plugin C'ha due algoritmi C'è un algoritmo che tra l'altro Questa è una macchina vera Quindi hanno riemulato la macchina C'ha due circuiti Chiamiamoli circuiti Circuito di saturazione Che praticamente fa lavorare la valvola in overload Come ho detto prima Cioè viene spinta nel range di saturazione E poi c'è un altro circuito di armoniche Ovvero noi possiamo andare a Aggiungere delle armoniche In un range di frequenza prestabilito In questo caso noi qua Abbiamo la frequenza centrale del nostro range Poi sul manuale c'è scritto di quanto è la banda Questo è molto importante perché devi capire Che range vai a saturare Ti faccio un esempio Se tu decidi di saturare intorno ai 6k 6k è la frequenza centrale Cioè aggiungere armoniche nei 6k 6k è la frequenza centrale Però questa frequenza centrale ha una banda Se la banda è di 5k Quindi tu c'hai 2k 2k e mezzo a scendere Per cui te ne vai a 4.000 A 3.500 E A salire a 2.800 Quindi tu hai tutto il range Diciamo della parte medio alta Che vai ad enfatizzare Questo è importante saperlo Perché ti serve Per capire effettivamente Che cosa devi andare a fare Però ti ripeto Te lo vai a cercare sul manuale Vedi qua Premi Open manual E ti vai a leggere Le varie I vari range Ok? Di intervento Così sai Quello che stai andando a fare Perfetto Quindi Questa è la voce Parlano Parlano Vedo sti infami che cantano Ora Io Enfatizzo La saturazione Per farti capire Quello che effettivamente fa Lì faccio entrare nel baratro Questo è O non è Travis Scott Ok E' chiaro che Poi come ti dicevo prima Questo Questo processo Viene Viene messo Nell'ordine del processo creativo Per cui Avendo l'idea Poi ci puoi fare tante cose Però Del miei pensieri Questo E La saturazione Esagerare Che tagliano Parano Parano Vedo sti infami che cantano Vedi il colore La pasta Che assume la voce Quindi quando tu vuoi andare a dare quel colore Caldo Quel colore di Travis Scott Ma non solo E anche altri Devi usare la saturazione Ora il punto è Quanto saturare Dipende da quello che vuoi tenere Vedi già qua Li faccio entrare nel baratro Del mie pensieri Che tagliano E' una saturazione Abbastanza Evidente La voce ha preso Una rotondità Però Qui La distorsione È abbastanza evidente Io in questo caso Non voglio tenere Una distorsione evidente Voglio solamente Andare a dare quella sorta di granulosità alla voce che mi danno le valvole Per cui Parano Parano Vedo sti infami che cantano Li faccio entrare nel baratro Dei mie pensieri che tagliano Uff Senti che corpo che prende Parano Parano Vedo sti infami che cantano Li faccio entrare nel baratro Dei mie pensieri che tagliano Parano Parano Vedo sti infami che cantano Li faccio entrare nel baratro Stupendo Ora Qual è il discorso Quando noi Quando vai a saturare Chiaro che Tiri fuori un po' di carattere Per cui La voce viene leggermente scurita Da questo intervento Per cui ora Cosa potremmo andare a fare Noi potremmo andare O Ad equalizzare La voce Per ridargli quella parte alta Oppure con questo plugin Siccome Qua interviene Sulle armoniche Alte Cosa possiamo fare Noi Possiamo andare Intervenire Intorno alla zona Dei 6k Come si fa Vedi molto semplicemente Qui questo vuol dire Pulsante Alto Pulsante Premuto Così è premuto Così è alto Quindi siamo Alto Premuto 6k Così è esagerato Però per farti capire Vedi le armoniche Che cantano Li faccio entrare Nel baratro Ok Troppo Però Dei mie pensieri Che tagliano Parano Parano Vedo Sti infami Che cantano Li faccio entrare Vedi se io qui Spengo le armoniche Nel baratro Dei mie pensieri Che tagliano Parano Parano Vedo Sti infami Che cantano Li faccio entrare Nel baratro Dei mie pensieri Che tagliano Eh La voce ha preso una pasta E un colore Veramente Veramente Unici E interessanti Poi Poi Questo è quello Che io volevo ottenere Da questa voce Quindi Una colorazione Non troppo eccessiva Eh Parano Ma comunque Presente Poi ripeto Da questo punto in poi Tu Puoi creare L'impossibile Parano Vedo sti infami Che cantano Li faccio entrare Nel baratro Vedi Una voce abbastanza distorta Quindi magari in un bridge Vai a Automatizzare Questa manopola E ti crei Questa distorsione Eh Sta semplicemente a te Rispetto a quello Che vuoi ottenere Lo scopo di questo video Era quello di farti vedere Come andare a Dare un sentore Un ulteriore step Alla to tune Come finalizzare Proprio tutta la voce Alla to tune Se vuoi ottenere Chiaramente Una voce Vera Vera Questo Per dire ragazzi Che Questo non lo dico io Lo dicono anche i pro Oramai con la tecnologia Si può ottenere Un sound Commercialmente competente Anche Mixando tutto in the box Perché Se si riesce A capire come lavorare Come intervenire Eccetera eccetera Si può ricreare Si può ricreare Quello che è l'ambiente Studio In the box Certo Ci vuole più conoscenza E' chiaro Ma noi siamo qui apposta Ci vuole più tempo Perché poi alla fine Perché poi alla fine anche questo Cioè quello che tu riesci a fare Qua semplicemente Magari Dal mondo vivo Dal mondo vivo Mandandolo Nella console Già ti prende questo colore E qua devi mettere un plugin Devi cercare il punto giusto Eccetera eccetera Però Comunque si riesce a fare Ok Quindi facciamo di nuovo una B Del miei pensieri Che tagliano Parano parano Vedo sti infami Che cantano Li faccio entrare nel baratro Del miei pensieri Che tagliano Ok mettiamola Parano parano Vedo sti infami Che cantano Li faccio entrare nel baratro Del miei pensieri Che tagliano Parano parano Vedo sti infami Che cantano Li faccio entrare nel baratro Dei miei pensieri che tagliano Ok, da questo sentore un po' più commerciale Perché ormai diciamo che l'autodune che si sente in giro al 90% è fatto così Bene, spero che questo video ti sia stato utile Fammelo sapere qui nei commenti se ti è stato utile Fammi sapere se c'è qualche altro argomento che vorresti trattare In maniera tale che io e il mio team decidiamo e valutiamo se effettivamente può essere un argomento interessante Lo portiamo sul canale molto molto volentieri Ora, arrivati a questo punto ci sono due cose che tu puoi fare Puoi continuare a formarti sul canale mio in maniera gratuita A vedere tutte le cose cercando di arrivarci, perdendo tempo eccetera eccetera Oppure puoi prenotare una consulenza, una telefonata, ci facciamo una chiacchierata io e te Andiamo a vedere quelle che sono le tue esigenze dal punto di vista didattico E creiamo un percorso personalizzato in base a quelle che sono le tue esigenze E nel mio percorso c'è un modulo intero dedicato all'autodune Quindi tu potrai sapere tutto ciò che c'è da sapere sul lato tune Risparmiando tempo, risparmiando soldi E risparmiando tutte le possibili anche informazioni false Che puoi trovare E quindi Vedi tu, valuta tu E ti ringrazio per aver visto questo video Dall'obbito e dal Minerva Studio è tutto Ci vediamo alla prossima Ciao Chiuso nel Minerva Studio Cucino sto mix, cucino sto beat C'è l'obbito fra dei muto Ti caccia light, ti caccia light